Qual è il prezzo giusto per essere stata ospite del Bunga Bunga? 2 milioni di euro, secondo la modella marocchina Emane Fadil, parte civile nel processo Rubibis. La Fadil ha chiesto il risarcimento a Fede, Mora e Minetti. Non a Berlusconi, l'ex presidente non è imputato in questo caso. La settimana scorsa, Ambra Battilana e Chiara Danese, anche loro sono parti civili, avevano fatto una richiesta 10 volte più bassa, 200 mila euro. L'avvocato della ragazza oggi ha spiegato che Emane era andata ad Arcore solo con la speranza di un contratto a Milan Channel. Non lo ha avuto perché non si è sottomessa alle avance di Berlusconi. Poi, dopo lo scandalo, è stata bollata come dama del Bunga Bunga, paragonata alle oggettine, non è uscita di casa per mesi, non ha dormito, ha perso occasioni di lavoro. Io avrei voluto chiedere anche di più, quindi sono sincera. Due milioni sono tanti però, sono soldi che una persona normale non guadagnerà. C'è gente che ha preso 5 milioni per star zitta, c'è gente che ha avuto dei bonifici da 810 mila euro, gente da 200 mila euro, 2500 al mese per tre anni, insomma, case da un milione di euro. Non so, guarda, fate voi, provate a fare un filo logico voi e diamoci una risposta a tutti. Fede, dopo l'udienza di oggi, ha annunciato querela contro di lei con una richiesta di risarcimento da 4 milioni per la sua ricostruzione delle cene di Arcore. La Fadil, fra l'altro, a processo iniziato, aveva denunciato l'incontro con un siriano, Saed. L'uomo le aveva regalato un telefonino con una scheda intestata a una donna inesistente. Secondo Imane Fadil, il siriano si era proposto come mediatore per un incontro di riparazione ad Arcore, un tentativo di comprare il suo silenzio smentito dal siriano. Il processo è quasi alla fine. Dalla prossima settimana cominceranno le arringhe degli avvocati degli imputati. La procura ha chiesto per tutti i sette anni di carcere. Fra un mese, la sentenza. Grazie.